Buongiorno a Friuli, benvenuti a una nuova edizione della nostra segna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano l'Udinese. Allora partiamo, come al solito, dal messaggero Veneto che inizia il viaggio nella crisi bianconera. Poco gioco e gol, ma la medicina c'è. Stadi nuovi innesti possono trascinare l'Udinese in salvo. Dunque il messaggero Veneto che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. La grande paura è palpabile, può essere spazzata, come ha chiesto Pozzo a squadra e con l'Antuono, nelle prossime tre giornate affrontando e domando Genova, Verona e Frosinone. Più sfuggenti i motivi della crisi di quei tre punticini nelle ultime sette gare. Ecco il banco degli imputati, ecco accusa e difesa. Lo vediamo da questo grafico realizzato proprio dal messaggero Veneto. I pro per la società sono la realizzazione dello stadio e il mercato invernale, che appunto secondo il messaggero sono delle qualità a disposizione dell'Udinese. Il contro invece è quello che non funziona, il troppo marketing e il Watford. Credo a questo punto sia la troppa attenzione verso il Watford, almeno questa dovrebbe essere il pensiero del messaggero Veneto. E poi il mercato estivo sotto accusa, secondo il quotidiano friulano. Poi ancora il tecnico, quali sono i pro di Stefano Colantuono, l'etica del lavoro e le certezze tattiche contro. Però troviamo un gioco monocorde e la gestione dei cambi. Queste sono le accuse che il messaggero rivolge a Colantuono. Invece la squadra, la squadra che di positivo ha l'atteggiamento in trasferta e poi l'esperienza del gruppo, è un gruppo comunque composto da giocatori che hanno militato in Serie A per tanti anni o comunque in campionati importanti e adesso si trovano a far fronte a una situazione difficile. Contro la mancanza di attenzione e i pochi gol realizzati. L'Udinese è il peggiore attacco della Serie A, insieme al Verona, la mancanza di attenzione perché effettivamente troppe volte ci troviamo a raccontare dei gol subiti e che erano anche francamente evitabili. Gli arbitraggi, i rigori a due, anche a tre o quattro se arrivasse. Non ci sono torti arbitrali nel Calderone e la crisi dell'Udinese anche se i penalty sono zero, come il Palermo. Tanto che ieri Ivan Zazzaroni, riferendosi all'assist di Messi dal dischetto, ha twittato Udinese e Palermo, i rigori li batterebbero anche a tre o a quattro se ne fischiassero uno a favore. E effettivamente rispetto all'anno scorso, dove comunque i rigori assegnati furono pochissimi, non è mai stato sotto accusa d'arbitraggio, sono stati pochi effettivamente gli episodi da Moviola che riguardano la formazione bianconera. Nel frattempo, parlando sempre dei giocatori nell'Udinese, in giro per il mondo, Niccolò Lopez si riscopre tripletta nel derby, non solo Zienischi, sono molto i talenti proprietà dei Pozzo che stanno facendo bene in giro per il mondo. Un altro è Niccolò Lopez, prestato al Nazionale in Uruguay e rifiudito in patria. Nelle ultime due gare ha firmato due gol, addirittura una tripletta al River Plate nel derby di Montevideo. E quindi non sono due gol, ma minimo quattro. Mi viene lecito questo dubbio, anche se insomma ammetto di non conoscere precisamente lo score di Niccolò Lopez, ma tre gol ne realizzate sicuro e quindi sono più di due. La grande paura, la decisione, l'Udinese va in ritiro, basta con gli errori, siamo preoccupati. Con Lavino e Giaretta hanno dato l'annuncio alla squadra. Bianconeri da domani a sabato all'hotel Alponte di Gradisca. Non aveva voluto parlare Gian Paolo Pozzo né domenica al termine della sconfitta con il Bologna né ieri a mente fredda. Evidente il risentimento del Paron per l'ennesimo intoppo casalingo che tiene l'Udinese a stretto contatto con la zona retrocessione. Così ieri è arrivata, come era nell'area, la decisione della società. La squadra va in ritiro anticipato domani dopo aver disputato il test al Friuli alle 15 contro i Ceceni del Terec. Si trasferirà all'hotel Ponte di Gradisca dove resterà fino a sabato pomeriggio quando in aereo raggiungerà Genova dove domenica l'attende la sfida salvezza con il Griffone. Sono stati il direttore generale Franco Collavino e il direttore sportivo Cristiano Giaretta a comunicare la decisione e la proprietà alla squadra ieri prima di cominciare. L'allenamento dunque teniamo chiaramente l'ufficialità di questa notizia ma nel frattempo sembra ecco questa la voce principale. Le parole del DS, la terra comincia a scottare sotto i piedi, a Natale avevamo 9 punti sulla terz'ultima, ora ne abbiamo 5. Parlando invece della squadra e delle imminente novità che la riguardano, Vaghe torna in gruppo e Ammarassi ci sarà, domani c'è anche l'amiche Ivoleconi con il Terec Grozny in squadra russa, eccola qui. Domani pomeriggio alle 15 si giocherà alla Dacia Arena, a Stadio Friuli, contro il Terec Grozny, questa squadra russa che è in ritiro a Lignano, per cui insomma toccherà fare pochissimi chilometri per visitare il nuovo magnifico impianto e la formazione bianconiera, Terec Grozny che è stata l'ultima squadra allenata da Ruth Gullit. Ecco piccolo, piccola nota di colore, nel test contro il Terec potrebbe vincersi l'undici di partenza per domenica, intanto ieri l'Odinese ha ospitato la Sport Radar nell'iniziativa contro il Match Fixing realizzata dalla Lega in collaborazione con l'Istituto del Credito Sportivo. Anche questa è una piaga da debellare, quella del Match Fixing, fa benissimo l'Udinese a pubblicizzare questo evento, a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa situazione perché effettivamente deve essere chiarita al più presto, anzi cancellata del tutto. La Serie B è un'ipotesi concreta, questa è la paura dei tifosi, domenica è un bivio decisivo, ma non mancano gli ottimisti. Come al solito il messaggero raccoglie il mercoledì le opinioni dei tifosi bianconeri attraverso i social network, la paura non mi è mai passata, dice Matteo Foschini, Mattia Zuccolo invece dice se non si fanno almeno 7 punti nelle prossime 3 partiti siamo destinati giustamente alla Serie B, massimo 40 punti rincara la dose, la B non è una paura ma qualcosa di concreto e poi messaggi positivi come quelli di Renato Tondon, siamo preoccupati se per caso perdiamo anche contro il Genova sarà sicuramente allarme rosso, noi è il club Friuli, saremo a Genova con il club di Amato per sostenere la nostra squadra fino in fondo, mai mola, insomma arrivano anche messaggi positivi per quanto riguarda la formazione bianconera. Passiamo a parlare di Colantuono, il calcio scommesse, come ben saprete c'è questo filone che purtroppo vede coinvolto anche il nostro tecnico, una situazione decisamente particolare però Colantuono in difesa anche nell'aula di Tribunale, domani l'udienza preliminare a Cremona per oltre 100 imputati tra cui il tecnico mai nominato è finito nel filone Doni, più complessa invece la posizione di Conte, l'abbiamo insomma descritta tante volte la situazione di Colantuono soprattutto a inizio stagione, ci auguriamo che la gestizia sportiva nel fare il suo corso riesca a svincolare il tecnico bianconero da qualsiasi tipo di responsabilità. Parliamo di calcio giocato, lasciamo per un attimo la parentesi bianconera, parliamo di nazionale, l'Under 17, ieri in campo a Manzano, ha vinto 3-1 con la Serbia, l'abbiamo seguita, noi di Udinese TV, ecco la sintesi della gara. L'Italia Under 17 del selezionatore Dalcanto ha battuto oggi pomeriggio a Manzano per 3-1 la Serbia, nel primo dei due test match che gli azzurrini giocano con i serbi sul campo sportivo di Viale Olivo. L'Italia che è in ritiro a Cormons si sta preparando per le fasi elite dei campionati europei che scatteranno a marzo. L'Undice Azzurro ha convinto i 200 spettatori di Manzano mettendo in mostra individualità importanti, in primis quelle del regista militari, classe 99 che milita nella Fiorentina, ma anche dei difensori Bellanova e Bianchi e dei centrocampisti offensivi Olivieri e Marcucci. L'Italia è passata in vantaggio alla metà del primo tempo. Trattesi, involatosi sulla sinistra, è stato abbattuto in area di rigore. L'arbitro ha chiamato immediatamente il calcio dagli 11 metri che Militari ha realizzato con estrema precisione. Il raddoppio azzurro è arrivato al 31esimo con la Serbia che ha perso palla al centrocampo incassando l'assiste di Militari per King che è stato abilissimo a entrare in aria, dribblare portiere e realizzare un diagonale di sinistra. Nel secondo tempo la Serbia ha dimezzato le distanze con una rete del centroavanti Jovanovic abile a sfruttare una indecisione della retroguardia azzurra. L'Italia che però ha chiuso in attacco la ripresa, affondando il colpo con Olivieri abile a ribadire in tappin un tiro di Scamacca. Una partita un po' a fase alterna, è cominciata bene, per un quarto d'ora dava la sensazione di poter vedere una partita brillante con due squadre sicuramente di buone qualità che comunque come lo sono, sono giovani ma anche fisicamente ormai sono abbastanza maturi, per cui così. Poi c'è stato un quarto d'ora una partita un po' di stanca, nel senso molti errori, passaggi sbagliati, alla fine poi dopo i gol si sono un po' incattiviti anche perché ci sono stati, come succede, qualche fallo e quindi la partita un po' alla fine del tempo si è un po' ripresa, un po' ripreso ritmo, un po' ripreso anche qualche buona giocata. Ha dimostrato entrambi le squadre pur con filosofie diverse, un 4-4-2 classico l'Italia, un 4-3-3 della Serbia. Vediamo la Serbia, una squadra che gioca, cerca di giocare, che però come per le palla ci trova con i due esterni, due terzini molto alti e molto larghi e con il gol che ha fatto l'Italia molto bello perché è stata una ripartenza veloce e li ha messi in difficoltà per cui è bello vederli giocare perché giocano per il calcio, per giocare bene, però poi alla fine in certi momenti hanno delle lacune dentro le quali può intervenire gli avversari. Comunque una partita tutto sommato interessante con delle individualità che mi sono piaciuto, il terzino destro dell'Italia, il ragazzo che ha fatto una diagonale incredibile a un certo punto ha salvato un gol fatto e poi anche il numero 11, si conosceva militari, insomma al di là del rigore però conoscevo, anche tra i nazionali e i serbi ci sono dei giocatori di ottime potenzialità e qualità, quindi ripeto, la qualità di singoli è buona, per un qualche momento la partita non ha offerto un granché nel senso che è un po' spezzettata però sono squadre entrambe che possono praticare sicuramente un buon calcio. Giovedì alle 11 si replica sempre a Manzano, tecnico dal canto, cerca indicazioni utili in vista della fase elite del campionato europeo che inizierà il 15 marzo in Georgia. Quindi questa era la sintesi, il servizio realizzato dal nostro Alberto Tonizio relativamente alla gara tra Italia e Serbia nel 17 che è andata in onda in esclusiva su Udinese TV nel pomeriggio di ieri. Spostiamoci ancora sul messaggero, parliamo di basket perché oggi, questa sera, anzi alle 21 al Benedetti c'è un turno infrasettimanale che vede protagonista la GSA, chiaramente ci saremo anche noi di Udinese TV come al solito, turno infrasettimanale che vedrà la GSA Udine impegnata contro la Broetto Padova. Nel turno infrasettimanale che coincide con la settima di ritorno di Serie B. Capitan Banuzzo e compagni arrivano dalla vittoriosa trasferta di domenica in quel di Crema e non si sono risparmiati né lunedì facendo sedute di tiro e studiando gli schemi degli avversari né ieri sera allenandosi in via Marangoni. Lardo dice che Padova è una squadra in crescita, nelle ultime 5 gare ha perso solo contro Crema di pochi punti, all'andata siamo stati bravi a contenerli ma nel primo quarto hanno dimostrato di poterci mettere in difficoltà e quindi massima attenzione all'andata finì. 61-81 per Udine. Andiamo adesso sul gazzettino del Friuli, vediamo cosa dice l'altro quotidiano locale prima di spostarci sulla parentesi nazionale, si parla di Udinese e chiaramente anche di ritiro, tutti i ritiro possono scherza, da domani si dormirà a Gradisca fino alla partenza per Genova, questa volta nessuna giustificazione per tecnico e squadra, la classifica non piace affatto, questo è il punto fatto dal gazzettino, i recuperi con l'Antuono, Spera, Inbaguet e Emanuele Bado che dovrebbe essere a disposizione il momento più difficile, questo è l'Udinese perché la sconfitta con il Bologna potrebbe avere accentuato ansie e paure, inoltre il margine di vantaggio nei confronti della terz'ultima si è ridotto a 5 punti che potrebbe anche ridursi a 3 in caso di vittoria del Frosinone nello scontro diretto in programma in casa dei Laziali, ci auguriamo di no, la situazione che si è venuta a creare dopo lo 0-1 di domenica è di certo più preoccupante rispetto a quella di un anno fa, proprio di questi tempi con l'Udinese che aveva 28 punti e una gara da recuperare e aveva anche più 8 dal Baratro, insomma però questo è il passato, con l'Antuono Spera di riavere contro il Genova il Franco Maliano Vagué, assente domenica per un problemino muscolare, potrebbe riprendere oggi la preparazione ma per precauzione è difficile che venga utilizzato domani nel test contro il Grozni a Genova, è previsto il rientro in mezzo di Badu. Verso Italia Spagna, di Natale torni in nazionale, su Facebook è partito questo progetto, questo gruppo che vuole l'ultima gara in azzurro dentro di Natale per quanto riguarda Italia Spagna che sarà in programma alla Dacia Arena il 24 marzo, per Totò, insomma prossimo all'addio al calcio giocato, salutare anche i colori azzurri che comunque lui ha contribuito a rendere grande nel corso di questi anni sarebbe sicuramente un tributo meraviglioso, un tributo tra l'altro riservato soltanto ai grandissimi di questo sport nel corso della storia. Poi a Udine c'è stata anche la lezione di calcio scommesse, contro il calcio scommesse chiaramente, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul match fixing, qualcosa che assolutamente ci teniamo più volte a ribadire, è qualcosa che va assolutamente debellato il match fixing. Il Pordenone, si parla di Lega Pro, Ramarri l'infermeria scoppia, sette giocatori infortunati o a Ciacati, anche Filippini è a rischio. Il Pordenone che viene da 6 vittorie di fila Sogna è legittimamente la Serie B perché è seconda da sola in classifica con 40 punti deve però un attimino fare i conti con questi infortuni. A Ciacati e inutilizzabili sono Cosner, Di Agostini, Beltrame, di certo bloccato Ingegneri, Pedersoli non si è allenato, riprenderà solo oggi, la pioggia non aiuta i recuperi. Tedino non sa ancora chi potrà portare a Cremona e chi potrà scendere sul rettangolo dell'Ozzini sabato sera. Questa allora la situazione per quanto riguarda il Pordenone. Ci auguriamo che per quando si dovrà scendere in campo si possa raccontare di una infermeria decisamente più vuota. Andiamo sulla gazzetta dello sport perché Berlusconi con il suo Milan festeggia i 30 anni di presidenza, i miei 30 anni da 10 e lode e vedrete che il Milan nei prossimi 5 puntini i puntini. Il presidente parla di tutto, il ricordo più bello è il triunfo di Barcellona, ora voglio arrivare a 10 finali Champions, a sinistra chiederò di vincere sempre da qui alla fine della stagione. Missione. Sicuramente non semplicissima per il Milan, di spalla la Champions, oggi c'è Roma Real, CR7 è carico, spalletti di più, noi alla pari. La velocità di Salah è la forza d'urto di Nainggolan e De Rossi per tagliare in due il Madrid e Arginare Ronaldo, missione sicuramente molto molto difficile per la Roma. Non farà stupida stasera, l'Olimpico vuole far festa, scrive Andrea De Caro, però insomma non sarà sicuramente semplicissima. Poi l'Italia si rituffa in Europa, può lottare per le due coppe. Ieri poi c'è stata già la prima tranche degli ottavi di finale, il PSG ha battuto il Chelsea, Ibre Cavani a segno, ma col Chelsea non è finita. E poi il Benfica ha battuto lo Zenit segnando al 91esimo. Oggi poi il programma, Arsenal Barcellona, no questo è il martedì perdono, oggi c'è Ghent e Wolfsburg, pensate un po' la qualità di questo ottavo di Champions League e dall'altra parte addirittura Roma Real Madrid. Poi martedì 23, Arsenal Barcellona, Juventus Bayern, mercoledì 24, PSV Atletico Madrid e Dinamo Kiev, Manchester City. Vietato sbagliare, Inter in ritiro, l'Inter che non se la passa benissimo, dal primo al quinto posto si corre ai ripari, ma Pirelli rinnova 27 milioni, Mancini grida, rialziamoci, mano pesante, il giudice sportivo dopo Firenze, due turni a Condogbia, tre a Zarate, incolo qui Mancini che indica ai suoi la strada da seguire per uscire dalla crisi. Primato e Guai, Emergenza Juve, Alexandro K.O. e Anzia Quadrado. Juventus che sta piano piano perdendo dei pezzi importanti, dopo Chiellini si fa male anche Alexandro e Quadrado dovrebbe saltare, quantomeno la prossima di campionato c'è il rischio forte anche di non giocare con il Bayern Monaco. Il rompi pallone di Genniocchi, Mancini avverte aria di sfiducia, ieri si è presentato da Toire con l'assaggiatore, questa è la situazione dell'Inter secondo Genniocchi. Sfogliamo un po' il quotidiano rosa, vediamo cosa troviamo, 30 e Milan, Berlusconi voglio due finali di Champions in cinque anni, aspetto ancora ballo, voto, mi do 10 e lode, non venderò mai, messaggio importante di Berlusconi che poi chiede a Sinisa di vincerle qui, di vincerle tutte da qui alla fine e i due amministratori delegati del Milan, sua figlia Barbara e Galliani, perfetti insieme, lei manager e lui tifoso, Marina non spinge perché molli il club, Marina Berlusconi è l'altra figlia dell'ex premier Silvio. Sartime, le marce, leoni sordi, così parlo Silvio per 30 anni, Maradona, grande giocatore ma nel Milan non potrebbe essere inserito, carattere difficile, lo disse nel luglio dell'88, pensate un po', poi ancora a Giovanni Paolo II, secondo Santità, l'ammiro perché lei porta nel mondo, cioè in trasferta, un'idea vincente, Dio, ero sempre particolare nelle sue uscite Silvio Berlusconi, poi sull'avvocato Agnelli, se Agnelli si divertirebbe a essere presidente del Milan, io mi divertirei di più con la Fiat. E ancora la chiusura sull'infanzia, mio papà mi portava allo stadio e non pagavo il biglietto perché ero piccolo piccolo, è questo che credo sia successo a tutti, il Milan di Berlusconi ha giocato 1474 partite, l'equivalente di 92 giorni, ce l'ho tatuato sul cuore e non farò un trapianto Berlusconi, che allora si tiene stretto il suo Milan, chiudiamo con le letture di Corriere dello Sport e Tutto Sport, il Corriere scrive Ronaldo accende Roma, Champions Olimpico pieno per il Real alle 20.45, CR7 un ciclone, so perché Messi ha tirato i rigori così, Totti impressionante, Spalletti passare si può, ci crede, il tecnico giallorosso. In taglio alto si parla di cinema con Deadpool e di spalla invece per la Juve un bagno d'amore a Binovo dopo il sorpasso, festa con i tifosi, Mancini fa il duro, Inter già in ritiro, il Napoli con il dubbio di Sarri, Guain si o no? E infine scopriamo come sarà Roma 2024 il progetto che vede a capo. Luca Cordero di Montezemolo, chiudiamo con Tutto Sport, l'inchino dalla Spagna all'Inghilterra, la Germania alla Francia, tutti celebrano il gioco e il record dei bianconeri, insomma Juventus che ha fatto una rimonta incredibile, questo bisogna concederglielo. Hai, si ferma Alexandro, allegri in ansia e poi l'intervista a Biali, che bello giocare accanto a Dybala. Il Torino immobile sembrava Van Basten, insomma calmiamoci un attimo, in taglio basso Roma stasera facciamo i fenomeni, questa è la domanda di Tutto Sport, quasi una richiesta. Scusate, con questo colpo di tosse tra l'altro chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina, abbiamo analizzato il momento dell'Udinese, Udinese che molto probabilmente andrà in ritiro a partire alla giornata di domani per trovare la concentrazione e ottenere dei punti nella gara contro il Genova. Non resta che salutarci e augurarvi come ogni giorno. Buongiorno Friuli.